... Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze comprovate ragioni di lavoro da casi di necessità o anche per motivi di salute. Grazie a tutti i miei Grazie a tutti i miei Grazie a tutti i miei